Viro Silos Ah 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 Tutto è charmane Superate il limite Non c'è nulla che non possa guarire Ok, 5, 4, 3, 2, 1, l'attacco è iniziato. Dov'è il tuo spirito festivo? Stai cingillando! Dov'è il tuo spirito festivo? Dov'è il tuo spirito festivo? La panacea per tutti i mali! Cecchino! Ho visto l'obiettivo, radunateli voi. Ho visto l'obiettivo tra le mani. Datevi una rossa in piastre. Un cifre, non c'era il tuo spirito festivo. Salve, la morte è inarrestabile! Affermativo. Ok, va bene. Obiettivo A. L'ultra si sta caricando. Iniziate l'assalto all'obiettivo B. La mia ultra si sta caricando. Guardate fuori gli altri fuochi e muovetevi! Oh, cifre. Non sopportare! Non sopportate! Non sopportare! Non sopportare! Non sopportare! Ehi! Oppure! Non sopportare! Soportare! Ehi! No, 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 no. No, 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 no.